E non stanno certo a guardare la televisione i giovani che la sera animano la Movida, Milano, Corso Como. Questa settimana, nel weekend, hanno debuttato Gli Angeli del Sonno. Vediamo chi sono. Ormai la Movida qua è da lunedì a lunedì, quindi avevo veramente bisogno di voi. Bene, speriamo di esservi utili allora. Loro sono gli Angeli del Sonno. Hanno esordito lo scorso fine settimana tra Corso Como e Piazza 25 Aprile e qui li troveremo a passeggiare per tutta la stagione estiva ogni weekend dalle 22.30 alle 3 del mattino. Al posto delle ali, questi volontari milanesi sfoggiano un giubbotto arancio con tanto di nome. L'obiettivo è presto detto, difendere il riposo dei residenti dagli schiamazzi della Movida notturna. E non solo. Siamo disponibili ovviamente anche a dare delle informazioni ai cittadini, ai frequentatori del Corso Como, indicando magari dove parcheggiare l'auto per evitare di incorrere in multe. per il controllo, diciamo così, senza sostituirsi logicamente alle forze dell'ordine, di Piazza 25 Aprile, dove a una certa ora qualche nostro cliente o persone di passaggio, insomma, un po' troppo esuberanti, disturbano il sonno dei residenti. A Milano si tratta della prima volta. Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra cittadini e commercianti che potrebbe diventare un modello anche per altre zone del divertimento notturno. Divertirsi ma con testa e con rispetto soprattutto. Mh. Ma fatica.